buongiorno ragazzi ben ritrovati rieccoci qua con mortal kombat 11 perché è uscito il trailer di rain il trailer specifico di rain da parte di warner bros quindi volevo vederlo insieme a voi e un attimino discutere del personaggio di come rappresentato in mortal kombat 11 e anche vedere un po di fare qualche anticipazione su più o meno come si potrà giocare il personaggio se possibile io il video non l'ho guardato so che sono un po in ritardo perché è uscito ieri però stavo registrando l'altro video sto un po impazzendo con tutti questi video e tutte queste idee e quindi lo vedo lo guardo in blind non so cosa aspettarmi non so se ci sarà abbastanza gameplay da poter da poter speculare però suppongo di sì perché conosco i trailer di netherlands sono abbastanza esaustivi da questo punto di vista sicuramente faranno vedere la x-ray sicuramente faranno vedere la scusate la fatta al blu la x-ray e di mortal kombat 10 sicuramente faranno vedere la fatality ho scelto ovviamente il trailer italiano perché che bello finalmente possiamo parlare in italiano possiamo recensire trailer italiani andiamo subito a vedere il video allora noto subito che comunque il doppiatore sta facendo un bel lavoro rispetto per esempio a kotal cioè c'è una qualità recitativa completamente diversa cioè kotal sembra che abbia tipo ingoiato una patata io non l'ho giocato mai devo dire in italiano mortal kombat 11 quindi non avevo sentito quanto facesse schifo il doppiaggio di kotal khan in italiano però rain sembra doppiato bene non so adesso chi è il doppiatore però il tono di voce mi sembra abbastanza valido un'altra cosa che salta subito all'occhio è che vedo che sono andati ancora una volta con il design alla medio orientale per gli edeniani perché edenia è la regione fittizia di mortal kombat e tutti hanno questo look un po medio orientale un po arabbeggiante quindi anche rain ha ricevuto questo restyle che lo mette in risalto rispetto a come era prima perché era semplicemente un ninja viola come scorpio subzero era un cambio di colore di questi ninja qui quindi adesso ha una sua individualità finalmente andiamo avanti vediamo subito il calcio d'acqua quindi questo ritorna il calcio d'acqua ritorna la solita mossa che ha dai tempi di mortal kombat 3 che spazza l'avversario via e poi praticamente l'avversario esce dal schermo e rientra dall'altra parte creando una combo quindi ovviamente c'è perché è la mossa più iconica e ricordiamo che anche shang sung in nel mortal kombat di adesso ha questa mossa qui quando in persona rain quindi era ovvio che ci fosse ok qui abbiamo una sorta di schivata ok altra mossa tipica scusate se interrompo spesso è la bolla d'acqua praticamente lui fa questa sfera d'acqua e poi dovrete guidare voi il personaggio avversario per mettervelo in posizione per creare la combo questa è una particolarità anch'essa che rain ha dai tempi di mortal kombat 3 quindi sarà sicuramente così anche in mortal kombat voi tirate questo proiettile che è come una doken se vogliamo se colpisce l'avversario rimane immobile e voi dovete guidarlo con il pad per mettervelo in posizione questa è una cosa molto interessante che è il personaggio e ovviamente doveva essere replicata perché è molto bella infatti qui vediamo che allunga la combo ah sembra che faccia male sta roba ah una specie di dive kick ok questa secondo me sarà una variante questi non so cosa sono schizzi d'acqua solidificata boh qualcosa del genere secondo me è una variante basata sul gioco a medio schermo sul lungo range ok quindi diventa invisibile a quest'altra variante qui ah un restand bene molto bene ok ha anche i fulmini che sono un'altra costante del personaggio guardiamo la fatal blow vabbè le solite fatality over the top non ho capito questa cosa degli occhi ma va bene allora questa è la schermata di vittoria la posa dell'amantide dovrebbe essere questa correggetemi se sbaglio ah è come al solito il solito ricapitolo combat pack 2 mortal combat ultimate con le due espansioni bla 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 andiamo a bomba velocemente a vedere gli elementi salienti del trailer ne ho già un po' parlato però recuperiamo subito allora innanzitutto il personaggio avrà la sua mossa iconica questo calcio qui lo hanno reso un pochettino più coreografico perché adesso fa una sorta di di giravolta in aria ma il concetto è lo stesso il personaggio viene spedito dall'altra parte dello schermo rientra dalla parte opposta e si può fare una combo come vedete qui questa mossa qui sicuramente è molto molto buona per bitare gli attacchi su rialzo quindi voi la fate se l'avversario si alza con qualcosa lo punite ed è incoraggiato dal fatto che questa è una crushing blow come vedete quindi molto bene i proiettili sono tanti quindi ha quest'onda e questa sfera di cui vi avevo appena parlato da cui si può fare la combo non so se saranno tutte nella stessa variante ovviamente un altro aspetto molto importante che mi sembra di aver visto vediamolo subito ok va bene a parte questa specie di perri in cui diventa invisibile ecco qui questa è molto importante in maniera simile a come accade con fujin il personaggio ha un restand quindi finendo la combo con questo schizzo qui l'avversario rimane in piedi questa è una cosa che è generalmente molto buona in Mortal Kombat perché se un personaggio ha una cosa del genere può evitare gli attacchi sul rialzo dell'avversario quindi l'avversario se è a terra si può alzare in vari modi lo sappiamo bene si può alzare con la roll si può alzare con l'attacco su 3, su 4 su 3, su 2 quindi può lanciarlo in aria dovete porvi il problema insomma con cosa si alza l'avversario se invece l'avversario la lasciate in piedi durante una combo voi siete in vantaggio e lui non ha modo per difendersi quindi solitamente chi ha queste mosse qui che rimettono l'avversario in piedi con questa animazione anche abbastanza antiestetica devo dire la verità però funzionale hanno sicuramente un vantaggio quindi questo è un grosso punto a favore vabbè questa è una normalissima presa presa indietro che fa crushing blow altro grosso punto a favore anche questa è una presa quindi niente da segnalare questa mossa non l'ho capita vedremo un po' che cosa sarà diventa tipo una sfera di acqua che si teletrasporta sul nemico vediamo quanto è efficace non sembra molto efficace onestamente abbiamo i tipici fulmini anche se non sembra che entrino in combo sinceramente perché sembrano più qualcosa da setup cioè tipo si butta a terra l'avversario si mette la nuvola di fantozzi sull'avversario e si aspetta che piovano i fulmini perché non la vedo come una scelta pratica in partita dato che ci mettono un po' a scendere i fulmini quindi non è che potete tirarlo così come ha fatto lui nel trailer però è un'altra delle mosse iconiche di Rain sin dai tempi di Mortal Kombat 3 quindi ci sta lanciano in aria si può fare vabbè la combo eccetera eccetera niente questi sono i tratti salienti del personaggio le cose che possiamo vedere da questo trailer il personaggio sembra promettente da questo punto di vista ha una grossa varietà di mosse ha un restand ha una presa indietro che fa crushing low quindi sembra ovviamente non posso sbilanciarmi più di tanto perché non l'ho provato non è ancora uscito però sembra molto promettente a livello proprio di potenza in game vedremo vedremo a me piace molto infatti io credo che quando uscirà il combat pack sarà il personaggio che proverò per primo e di cui vi parlerò per primo e quindi sono contento del redesign sono contento di questo look medio orientale perché ormai sono andati con questa idea e la stanno ovviamente portando avanti con coerenza bene per assurdo mi piace anche il doppio attore italiano ed è una cosa abbastanza rara d'accordo non voglio che il video sia troppo prolisso in maniera inutile quindi queste erano le mie impressioni su Rain spero vi siano piaciute e ci vediamo al prossimo video ciao